Mi sembra che sia un ottimo piano di razionalizzazione della sanità, parliamo per quella della provincia di Teramo. Io per ovvi motivi, poiché sono più afferente all'ospedale di Atri, posso dire che dopo la batossa della chiusura del punto nascita si è ragionato in questi mesi sia con l'assessore sia con il presidente che il commissario e devo dire che il mantenimento dei tre presidi, parlo di Santomero, Atri e Giulianova come ospedale di base comunque mi sembra un buon punto di partenza. Ripeto, c'è un solo problema che è Atri per quanto riguarda il punto nascita, però il fatto stesso che si mantenga H24 i pronti soccorso è un motivo di sicurezza per il territorio. Certamente la provincia di Teramo che vede con accessi soprattutto di pronti soccorso molto alti che superano comunque tutte le 20.000 prestazioni, questo ci aiuta molto. Da qui però bisogna lavorare anche su un altro aspetto, perché se dovessimo paragonare una pianta organica siamo soddisfatti, però poi all'interno della pianta organica va messo il personale. Oggi quello che più di tutto soffre la provincia di Teramo è questa mancanza di assunzione del personale. Va riorganizzata sicuramente anche tutta quella che è la futura strategia della sanità terramana, anche per quanto riguarda i nostri presidi. Sappiamo bene che quattro presidi ospedalieri, io sono diretto, non sono più sostenibili per la nostra provincia. Su questo va fatta una scelta. L'ospedale unico attualmente è l'ipotesi che sembra quella più vagliabile, però si stanno valutando anche altre opzioni sul territorio. Quindi su questo entro breve, cioè quella anche di vedere se si può tentare la crasi fra due presidi ospedalieri oppure cercare di organizzare una sanità diversa. È chiaro che dobbiamo potenziare le emergenze, la rete delle emergenze, perché è la cosa più fondamentale e soprattutto potenziare la medicina del territorio. Quindi questi sono due step importantissimi prima di poter pensare ad una sanità migliore e ad un presidio unico.